Italian Padel rilascia la marcatura CE relativa alla struttura metallica principale del campo da padel solo dopo aver visionato l'avvenuto deposito al genio civile delle pratiche strutturali ed aver individuato i professionisti che hanno partecipato al deposito delle stesse. Questa marcatura per noi di Italian Padel è molto importante in quanto obbligatoria per legge, è richiamata infatti dall'NTC 2018 e valida non solo sul territorio italiano ma anche in quello europeo.